Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato, il 2023-2024. Questa è la prima maglia, quella che dovrebbe essere la prima maglia del Paris Saint Germain in versione Player. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piace più di quella dell'anno scorso, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o meno. Il costo come al solito lo vedete qui sopra, su questo c'è poco da aggiungere, veramente un costo molto basso che invita all'acquisto. Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate quindi a vedere questa e altre bellissime offerte che vi aspettano. Ora vi lascio la parte finale, prima però mi raccomando lasciate un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale, è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.